c'è lì non mi sento che c'è lì vergogna ora gli faccio vedere la dottoressa la pisata di Biancavillo io lo dico io, la rovino qua andando c'è lei, non mi sta visitando la bambina perchè mi ha detto che l'ho visitata ieri ora la rovino, lei di qua si deve andare gli faccio vedere non me le sto fottendo un gaccio io lo dico io qua, andando lo sto registrando ora lei lo vede ora lei qua lo vede io la faccio vedere io la dottoressa la pisata dell'ospedale di Adrano non mi ha visitato la bambina perchè l'ha visitato ieri guardate che schifo guardate che dottoressa schifosa guardate che dottoressa schifosa qua, lo pubblico su tutto Adrano ve lo faccio vedere io Zingo è lei Zingo, dottoressa di merda non mi visita mia figlia o io lo dico io Zingo è lei, dottoressa è la rovino gli stanno facendo un po' guardate che dottoressa guardate che mia figlia qua sta male non me la sta visitando l'armovino, lei l'armovino qua l'armovino io lo sto filmando tutto Adrano le faccio vedere la dottoressa la pisata dell'opera di Adrano va bene Grazie 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 Grazie